Primi dati economici negativi anche per il lecchese che fino ad oggi aveva goduto di una seppur flebile ripresa e aveva tenuto tutto sommato riposizionandosi soprattutto nel settore metalmeccanico sui livelli pre-crisi. Ne parliamo con Salvatore Monteduro, segretario generale della UIL dell'Ario. Qual è il panorama? Questo è un panorama che tende a dimostrare che la ripresa economica è una ripresa flebile che vive di oscillazioni forti e che ha una ripercussione poi sul mercato del lavoro. Da questo punto di vista quello che si manifesta in questi dati è una forte precarizzazione dei rapporti di lavoro. Questo sta ancora a dimostrare una volta che c'è sì una ripresa economica del settore metalmeccanico ma c'è una ripresa che comunque preoccupa forse molto le aziende e che questa preoccupazione poi tende ad assumere i laboratori riconcontratti a tempo determinato, quindi un lavoro di tipo precario. Altro elemento che viene evidenziato da questi dati sono quello della diminuzione dei rapporti di lavoro di apprendistato. Sono contratti di lavoro che coinvolgono i giovani e questo manifesta ancora una volta che i giovani sono quelli che vivono ancora di più l'handicap di questo mercato del lavoro che non decolla notevolmente. Noi riteniamo che ci sia bisogno di una politica economica espansiva, sì, ma che naturalmente vada a incidere molto di più sugli investimenti, sulla domanda interna e sul decollo della domanda interna. Perché oggi la ripresa economica vive essenzialmente di quello che è la domanda del mercato globale. È un mercato globale che però dà forte preoccupazione perché quelli che sono i daggi doganali iniziano forse a fare degli effetti, a dare degli effetti negativi in tutto il contesto internazionale. E credo che l'Italia stia iniziando a vivere queste forti preoccupazioni, in primis il territorio delle chiese.